Ben ritrovati al TG6, apriamo questa edizione del telegiornale parlando della restituzione delle tasse per le aziende aquilane colpite dal sisma del 6 aprile 2009. In programma il 16 aprile una grande mobilitazione all'Aquila contro la restituzione delle tasse, un fatto che rischia di mettere in ginocchio l'economia del capoluogo e rischia anche di lasciare a casa tantissimi lavoratori, una restituzione che da più parti viene definita inaccettabile. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Stiamo percorrendo tutte le strade, a livello legale, a livello di sensibilità e a livello anche a questo punto di interloquire con l'attuale, finché ci sarà governo, perché è una corsa contro il tempo affinché possa fare un intervento immediato per così dire mettere una pezza, se si riesce, a quello che potrebbe essere la fine, a mio avviso purtroppo lo dico e lo ripeto, di decine di aziende radicate da decenni nel territorio. Una mobilitazione cittadina, una grande manifestazione che si svolgerà lunedì 16 aprile all'Aquila, per dire no tutti insieme, alla restituzione delle tasse sospese dopo il sisma del saprile 2009 e ora, come è noto, richieste dalla Commissione Europea, che ha considerato la sospensione un vero e proprio aiuto di Stato. Arriviamo al 2017, ormai governo Gentiloni, e il governo Gentiloni addirittura, alle insistenze dell'Europa, mette in campo un commissario che dovrebbe provvedere poi, che dovrà provvedere tra poco, anzi che ha già provveduto, a riscuotere coattivamente da queste imprese quanto dovuto, ma dovuto nel senso quanto richiesto, perché a nostro parere questi soldi continuano a non essere dovuti, perché il danno c'è e queste imprese hanno ricevuto quello che dovevano ricevere per rimanere in piedi. Questa è la goccia che fa traboccare il vaso, è l'atto finale di una incapacità e inconsapevolezza di quello che accade. Quando si vedono le cartelle con gli importi e le cifre che sono scritte, si comincia ad aver paura, e la paura purtroppo non è solo di noi imprenditori, costruttori, artigiani, anche liberi professionisti, perché qui è stata estesa una platea molto più ampia di quella che inizialmente potesse pensarsi, al di sopra dei 200 famosi mila Euro di De Minimis, ma coinvolge una platea al di sopra delle 300 cartelle, 350 cartelle, sicuramente con misure diverse e posizioni diverse, ma la città comincia a capire purtroppo che adesso il problema esiste ed è concreto ed è serio. La mobilitazione serve a questo, a far capire che dietro questa problematica ci sono posti di lavoro. La manifestazione partirà alle 10.30 dalla Fontana Luminosa. Saranno invitati tutti i leader politici nazionali per un'azione serrata sia a livello parlamentare che giuridico. Il corteo poi prenderà le vie del centro dove ci sono ancora le ferite del terremoto. Oltre alla manifestazione del 16 aprile, gli imprenditori hanno intenzione anche di promuovere una marcia su Roma con un sit-in davanti a Palazzo Chigi. La legalità è di casa. Questo è il titolo della proposta di legge regionale presentata oggi a Pescara dai consiglieri del Movimento 5 Stelle per porre fine al fenomeno dell'illegalità negli alloggi popolari. Primo firmatario di questo provvedimento il consigliere Domenico Pettinari. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Una proposta di legge regionale per combattere l'illegalità negli alloggi popolari. Lei consigliere Pettinari è il primo firmatario di questa proposta di legge e auspica una posizione condivisa anche da parte degli altri partiti. Sì, è una sfida che lanciamo a centro-destra e centro-sinistra. Purtroppo loro sono stati sempre quelli che hanno approvato le sanatorie per gli occupanti abusivi mentre noi vogliamo sbatterli fuori dalle case popolari. Allora, la nostra legge prevede che chi ha commesso reati e quindi ha subito condanne passate in giudicato per reati gravissimi, quale l'usura, lo spaccio di droga, l'estorsione, lo sfruttamento della prostituzione, detenzione di armi, nei cinque anni precedenti la domanda di assegnazione di un alloggio popolare non può partecipare alla graduatoria. Chi è già assegnatario degli alloggi popolari e commette e subisce una condanna definitiva per reati gravi che abbiamo appena detto, deve essere sfrattato immediatamente. Prevedere che non solo l'alloggio, chi adibisce l'alloggio ad attività illecite, ma anche chi adibisce le zone limitrofe e le pertinenze dell'alloggio ad attività illecite deve essere sfrattato, dichiarato decaduto. Di vietare soprattutto l'attivazione di contratti delle forniture di energia elettrica, gas e acqua agli occupanti abusivi, a chi occupa con la forza e con la violenza. Ecco, questa norma ristabilirebbe la legalità all'interno degli alloggi popolari nelle nostre periferie e soprattutto riporterebbe una condizione di pace sociale. Non solo, noi vogliamo anche istituire e creare una sorta di laboratori degli arti, dei mestieri, un laboratorio di formazione professionale per tutti quei ragazzi disoccupati, meno giovani disoccupati delle periferie e quelli che abbandonano la scuola. Ci sono tante associazioni che operano in tal senso, vogliamo creare anche una sinergia con queste associazioni. Adesso torniamo all'Aquila perché siamo alla vigilia dell'anniversario del terremoto che questa notte vedrà la fiaccolata in ricordo delle vittime. A nove anni dal sisma, il sindaco dell'Aquila, Biondi, al suo primo anniversario con la fascia tricolore del capoluogo, vede una comunità che ha saputo reagire ma la vorrebbe più coesa. E' questo il messaggio che lancia, che andiamo ad ascoltare nel servizio. Immagino una città più coesa innanzitutto come comunità. Sono parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi a nove anni dal terremoto. Il primo cittadino al suo primo anniversario con la fascia tricolore del capoluogo, vede una città che si sta rialzando, una comunità che comunque, di fronte al sisma del 6 aprile, ha saputo reagire. Ma l'immagino intanto con una comunità più coesa che ha saputo fare tesoro delle sofferenze, dei dolori e ha trovato intorno al simbolo nero-verde, che è la bandiera di tutti noi, delle ragioni di unità. Perché c'è bisogno dello sforzo di ognuno, di noi, di ogni cittadino, per continuare a cambiare questa città, che comunque negli anni ha vissuto dei progressi importanti, dei progressi notevoli, tanto più se oggi lo confrontiamo con altre realtà, molto minori dal punto di vista della complessità naturalmente. Vediamo che questa è una città intanto in cui la ricostruzione privata, fatto dei passi da gigante, il centro storico, il nostro asse centrale, inizia a riprendere la sua fisionomia ante sisma, si riaprono delle attività commerciali, c'è la ricostruzione pubblica che stenta, ma comunque alcune cose sono state fatte, altre sono da fare. Abbiamo riaperto Collemaggio, che è un simbolo importante per tutti noi, è una città che sta conoscendo la sperimentazione del 5G, che verrà la città accablata con la fibra ottica, c'è questo grosso progetto sulla mobilità sostenibile e sulla mobilità elettrica, bisogna lavorare molto sulla qualità della città, sulla qualità della montagna, sul rilancio turistico, sul sostegno a questo fervore culturale che c'è. Però io credo che sia una città che ha reagito. Andiamo avanti, ci spostiamo a Pescara. La Confcommercio conferma la sua posizione critica nei confronti del progetto di riqualificazione dell'area di risulta presentato dal Comune di Pescara. Rilancia la sua idea per l'area della vecchia stazione presentandone il progetto redatto dall'architetto Sabatino Catani. Sentiamo. La Confcommercio di Pescara conferma una posizione molto critica nei confronti del progetto di riqualificazione dell'area di risulta presentato dal Comune e rilancia invece la sua idea per l'area della vecchia stazione presentando il progetto redatto dall'architetto Sabatino Catani per conto dell'Associazione dei Commercianti. Questa mattina in conferenza stampa il presidente di Confcommercio Pescara Franco Danelli ha illustrato la posizione dell'Associazione. Il nostro progetto prevede un solo multipiano di proprietà del Comune, ha detto Danelli, con facciate in vetro fotovoltaico, giardini verticali e 4.000 posti auto nei piani superiori e un piano terra intermodale per i servizi, il parcheggio gratuito dei disabili, gli autobus navetta elettrici. Il presidente ha spiegato che sia il Comune di Pescara tramite la società Pescara Parcheggia mantenere la gestione dei parcheggi cittadini, mantenendo dunque la gestione dei 4.000 posti auto del multipiano senza alcuna modifica delle tariffe attuali. L'architetto Catani ha invece spiegato nel dettaglio il progetto di Confcommercio. La Confcommercio non dice no al progetto delle aree di risulta proposte dal Comune ma formula una proposta alternativa, nettamente migliorativa per il Comune e per la città. Si realizza in particolare l'analizzazione di un multipiano moderno che respira tutto verde, produce energia elettrica, disinquina l'aria, per cui questa è la parte principale del progetto. Per il resto ci sono campi sportivi, aree verdi, centri diciamo multiculturali e altri asset, tutto a favore del Comune. Restiamo nell'area metropolitana ma ci spostiamo a Chieti. Non ci sarà una commissione di inchiesta sul buco di bilancio da 12 milioni di euro del Comune, bensì un Consiglio Comunale straordinario. Questa è la decisione dell'assise civica rispetto alla richiesta di indagine avanzata dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Il servizio di Gino Di Tizio. Consiglio Comunale questa mattina a Chieti. Non ci sarà una commissione di inchiesta con il compito di fare chiarezza sulla situazione dei conti in rosso dell'amministrazione, come chiesto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Ottavo Ergenio e Emanuela D'Arcangelo, ma un Consiglio Comunale speciale straordinario al quale saranno invitati tutti i dirigenti del Comune e responsabili di teatro e servizi. E' stata questa la scelta della maggioranza di centro-destra con la intenzione di avere un quadro di tutta la situazione esistente, non solo da un punto di vista politico e delle responsabilità di chi ha gestito le amministrazioni che si sono succedute dal momento in cui i conti non sono più stati in equilibrio, perché è invistiata anche la precedente amministrazione del Sindaco Ricci, ma anche dei responsabili amministrativi dei vari settori e della società chiamata a riscuotere le tasse per conto dei cittadini. Verrà fissato questo Consiglio straordinario nella speranza che davvero si riesca a capire dove è nata la situazione debitoria del Comune di Chieti e soprattutto si sia in grado di indicare la strada per risolvere la situazione. Questa è nell'intenzione di chi ha promosso sia la richiesta di una commissione speciale e di chi anche ha scelto invece di andare a un Consiglio straordinario speciale. Vedremo. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo in Val di Sangro, alla Sevel di Atessa, sciopero di quattro ore, oggi e domani, ad indire l'astenzione dal lavoro dei manutentori della fabbrica del Ducato. è stata la FIOM CGL. Il sindacato è contrario alla volontà dell'azienda di aumentare i turni a tre ore per sette giorni. Sentiamo l'intervista a Davide Labbrozzi, che è il segretario della FIOM CGL di Chieti. Diciamo che ancora una volta la vita delle persone viene stravolta per effetto di un contratto, quello non sottoscritto dalla FIOM, che in un certo qual modo dà la possibilità all'azienda di fare e disfare, di fare tutto ciò che, diciamo così, ritiene utile fare per i propri interessi, per gli interessi dell'impresa. Il nuovo modello organizzativo che l'azienda ha imposto e che le altre organizzazioni sindacali hanno condiviso, prevede un passaggio a 21 turni, significa lavorare sette giorni su sette per tre turni lavorativi. Le persone non sono d'accordo con questa impostazione, vorrebbero che si aprisse una discussione vera, cosa che la FIOM sta cercando di fare, per proporre innanzitutto un sistema turnistico diverso da quello che l'azienda propone. E poi perché si possa compensare dal punto di vista economico il disagio che un sistema di quella natura andrebbe a determinare. Noi abbiamo incontrato l'azienda alcuni giorni fa, c'era già stata una dichiarazione di sciopero, che poi abbiamo revocato, perché l'azienda ha messo su questa disponibilità di incontrarci. L'incontro non ha prodotto alcunché, quindi noi oggi torniamo a dichiarare lo sciopero e nella giornata di oggi, nella giornata di domani ci saranno 4 ore di sciopero per ogni turno lavorativo. Quanti sono i manutentori? Sono quasi 250 persone che all'interno di questa grande azienda compongono un grande reparto di professionisti, di gente che fa manutenzione su tutti gli impianti e che in un certo modo rivendicano anche il diritto sacrosanto a poter dire la loro, non solo perché persone in carne ed ossa, ma perché professionisti nel vero senso della parola. L'ANAS è intervenuta in località Lago Dragoni di Torino di Sangro con un senso unico alternato sulla statale 16, al di sotto della quale una frana messa in moto dall'erosione dell'acqua marina sta mangiando il terreno che corre sotto la statale 16. Si attendono di interventi in urgenza finanziati dalla regione Abruzzo per cercare di tamponare la situazione. Spunta il senso unico alternato sulla strada statale 16 con la corsia che si affaccia sull'Adriatico non più percorribile e località Lago Dragoni, comune di Torino di Sangro, ad assistere ora ai semafori per circa 200 metri nel tratto di costa più eroso che rischia di cedere e scivolare a mare. È intervenuta quindi l'ANAS sul sollecitazione del sindaco del comune Silvana Priori. Almeno si pensa all'incolumità pubblica. Ampie falde si sono aperte nel sottosuolo, le mura a difesa della costa sono ormai in procinto di frantumarsi, profonde buche, i cosiddetti sifoni, segnalano come si è in corso un imponente frana. Tra l'indifferenza dei piani alti della politica, che invece ha pensato a tagliare il nastro della pista ciclopedonale incredibilmente a priori, senza evidentemente mai passeggiare sull'extracciato ferroviario e rendersi conto che per adesso sarà un corridoio verde munco, altro che 52 chilometri. Comunque entro qualche giorno sui 200 metri di costa che lambiscono la statale, si ergerà una scogliera frangionde con la regione che ha stanziato 200 mila euro col provvedimento di somma urgenza. La In Mare di Termoli ha ricevuto l'appalto dalla direzione Opere Marittime, un intervento che sarà realizzato in pochissimi giorni. Per gli altri interventi a difesa della costa si guarda per adesso il cielo e si prega, ma i meno ingenui cantano già il De Profundis. Nella sala ipogea di Teramo sarà visitabile fino al 20 aprile una mostra fotografica sull'Africa, allestita dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise. Le immagini esposte raccontano il ventennale rapporto di cooperazione scientifica fra l'IZS e il continente africano. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Faccio un salto in Africa con gli amici veterinari. È il titolo di una mostra fotografica allestita nella sala ipogea di Teramo dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, che ha deciso così di raccontare attraverso immagini evocative il lungo percorso di ricerca e sviluppo fatto in Africa negli ultimi 25 anni. È un rapporto importante, è un rapporto istituzionale, è un rapporto funzionale di ricerca e l'origine di questa attività sta nel fatto che conoscere l'Africa nelle sue varianti di patologie animali, significa sapere cosa può arrivare da noi e quindi essere pronto a riconoscere le malattie, pronto ad arginare, a far vaccini, eccetera. È interessante ricordare che durante tutti questi anni, sono decenni di collaborazione, la collaborazione si è basata su una presenza dei nostri operatori là in sede ed è stata questa presenza, più duratura, piuttosto che progetti specifici che ha valso all'Istituto la fiducia di queste persone. Le immagini esposte parlano di un viaggio in un continente bellissimo e ricco di umanità, un reportage che intende prendere per mano i visitatori e far ripercorrere loro le vie tracciate dall'Istituto nel corso del lungo rapporto di stretta collaborazione con i partner africani che nel tempo si è trasformato in una vera e propria cooperazione. Avete fatto tantissime foto, come le avete selezionate? Non è stato facile perché poi abbiamo cercato di dare degli spaccati, degli spaccati legati a attività che sono nel nostro DNA, l'igiene degli alimenti, quindi i mercati, far vedere alla popolazione di Terramano perché questa è un'attività rivolta alla nostra popolazione, a Teramo, far vedere come sono organizzati i mattatoi, far vedere come sono organizzati i mercati, presentare loro quello che è il problema della sanità animale, dell'igiene degli alimenti come ti dicevo prima, la formazione, come noi eroghiamo formazione e come riceviamo formazione, ma soprattutto uno spaccato di vita. è la nostra presenza giù, vivendo insieme a colleghi che vivono giornalmente questa realtà. La mostra sull'Africa sarà visitabile al pubblico sino al 20 aprile. Le associazioni sportive che operano in alta quota avranno un sostegno economico grazie alla legge regionale sul turismo sportivo montano che si pone l'obiettivo di incentivare questo particolare settore legato agli sport in alta quota, sia invernali che estivi. Ascoltiamo. Valorizzare lo sport in alta quota sia nella stagione invernale che in quella estiva è l'obiettivo della legge regionale sul turismo sportivo che tra 30 giorni circa proderà in commissione regionale e poi in consiglio proposta dal consigliere regionale Lorenzo Berardinetti. La regione, secondo il dettato della norma, si occuperà di mettere in piedi un bando di concorso per sostenere economicamente tutte quelle associazioni sportive che operano sulla montagna abruzzese. E questo è un riconoscimento di tutte queste attività che fanno le associazioni in modo che creiamo un registro delle attività svolte e daremo un contributo a tutte le associazioni che faranno richiesta per quanto riguarda lo sviluppo del territorio e metteremo in rete tutto ciò che riguarda lo sportivo dalla rampicata alla corsa in alta montagna, allo sci. Ci sono una serie di attività che vengono riconosciute a livello regionale e fanno sì che venga sviluppato il turismo anche sportivo all'interno della regione Abruzzo che già è praticato, però diamo un riconoscimento e è bello riconoscere e dare un'attività proprio specifica per chi si svolge questa attività in alta montagna come lo sport. Le associazioni vengono riconosciute, verrà costituito un comitato regionale, un tecnico così come sulla legge dei cammini e verrà riconosciuto, avranno delle attività e degli indici da riconoscere che vengono riconosciute all'interno di questo tavolo regionale e chi è all'interno del tavolo regionale farà sì a riferire anche dei finanziamenti in parte riferiti a quello che spendono con un bando che verrà fatto a livello regionale. E adesso andiamo avanti, passiamo alla pagina dello sport, iniziamo dalla serie B ovviamente dal Pescara, sabato pomeriggio impegno difficile in trasferta per il delfino sull'ostico campo del Barbera di Palermo con la squadra di Bruno Tedino che è caduta martedì sera nel recupero contro il Parma. In casa Biancazzura ieri lavoro differenziato per Campagnaro, Brugman e Mazzotta che saranno indisponibili esattamente come Proietti e Bovo che non si sono allenati. Il centrocampista uruguaiano è in forte dubbio ed è chiaro che se fosse out sarebbe Macin a prendere il suo posto vista anche la squalifica di Carraro. Oltre a lui Valsania e Coulibaly sarebbero gli altri interpreti del reparto nevralgico. In difesa giocheranno Code Fornasier, probabile chance per Fiamozzi sulla corsia di destra e Tridente avanzato con Pettinari al centro supportato da Capone e Mancuso. Però ieri Pillon ha anche provato Cocco come boa centrale del reparto avanzato. Seduta ad allenamento mattutina invece per il Palermo che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento alla sfida di sabato. Per il rosa nero al tenente onorato di Bocca di Falco. Lavori di attivazione eseguiti da esercizi di forza per coloro che sono scesi in campo contro il Parma ed esercitazioni tecniche perché invece non ha giocato. La seduta è stata conclusa da esercitazioni tattiche. A dirigere la gara del Barbera sabato pomeriggio sarà il signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia. Un solo precedenze per il Delfino con il fischietto Ligure risale proprio a questa stagione. Successo casalingo per 3-1 nei confronti della Pro Vercelli. Adesso scendiamo di una categoria, andiamo in Serie C per parlare del Teramo. Il centrocampista Kevin Varas sembra essere l'elemento imprescindibile in casa Biancorossa per la sua duttilità. Proprio il giocatore di origini sudamericane spiega la ritrovata solidità del Diavolo e guarda con fiducia al prossimo impegno di campionato contro il Renate. Sentiamo. Questo è stato un risultato positivo in vista della classifica e siamo stati anche bravi nel pareggiare subito la partita perché non era facile, perché comunque è uno scontro diretto e l'abbiamo colto bene. Adesso ci prepariamo bene per domenica. Vincere è fondamentale perché sarebbero tre punti importantissimi per raggiungere il nostro obiettivo, è normale che dobbiamo andare in campo con la giusta mentalità e il giusto equilibrio, senza andare lasciando magari troppi spazi e cercando magari prima di stare lì e non prendere il gol e poi cercare di farlo. Abbiamo trovato un equilibrio, comunque stiamo lì, cerchiamo di non subire molto e che l'occasione prima o poi ci capita. Dobbiamo magari far meglio rispetto a Gubbio sulla questione magari di concentrazione fin dal primo minuto perché dopo se prendi gol magari si mette diversamente. Dobbiamo cercare di non ripetere i primi minuti a Gubbio, essere più concentrati fin dall'inizio e come hai detto te siamo stati bravi a pareggiare subito la partita perché magari in passato se prendevamo gol magari andavamo un po' più in difficoltà, ora invece stiamo dimostrando che siamo una squadra comunque viva che ci crede fortemente e cercheremo di farlo da domenica fino alla fine. Ormai sto facendo sia un po' a destra che un po' a sinistra, è normale che magari gioco diversamente, magari sulla destra gioco col mio piede e invece a sinistra gioco a piedi invertito, però sinceramente non trovo nessuna differenza, mi trovo bene in entrambi le posizioni. Il Renate è una squadra comunque, cioè una bella squadra, vengono da una vittoria importante, c'è da un pareggio scusa, importante e verranno qua sicuramente per vincere la partita perché vogliono un posto per fare i playoff. Noi invece dobbiamo cercare di vincere per la nostra salvezza e visto che giochiamo in casa dobbiamo dare di più rispetto a loro. Adesso andiamo in Serie D, giornata di recuperi, quella di ieri l'Aquila, al Gran Sasso d'Italia Itola Concia batte in maniera sonora il Campobasso per 4-1 con i molisani contestati a fine gara. Andiamo ad ascoltare le interviste al tecnico Aquilano Battistini e al presidente del Campobasso Leone. L'occasione del vantaggio nei primi minuti ci ha sicuramente dato una spinta in più anche se volevamo approcciare questa partita bene perché ci dava la possibilità di entrare fra i primi cinque anche se è molto pronastico nella situazione societaria che stiamo vivendo però avevamo ovviamente quella rabbia sportiva giusta che c'è perché questa partita volevamo giocarla al momento giusto che era il momento del campionato, il mercoledì dopo e non fare lunedì Pasqua a allenarci penso che sarebbe stato giusto anche riposarci però è andata così e il risultato ci ha ripagato di questo sacrificio. Diciamo che solitamente sono le società che traenono le squadre e non viceversa in questo momento noi oggettivamente fino a poche ore della partita non sappiamo se la disputavamo e questo è un dato oggettivo. Questo perché scusi? Perché c'è una multa della Lega che doveva essere pagata assolutamente entro le 12 di oggi è stata pagata praticamente alle 11 quindi ancora non sapevamo se avremmo giocato non sapevamo se partivamo per Recanati insomma quando siamo andati settimana scorsa in questo momento stiamo sicuramente avendo tanti pesi addosso dopo una stagione comunque sia così difficile ora qualcosa per l'Aquila forse si muoverà per aiutarci a completare dignitosamente questo campionato è un peccato sono d'accordo con te perché sono convinto che con una società societaria migliore potevamo fare meglio di quello che abbiamo fatto finora. Rammaricato per la quarta sconfitta consecutiva poi a fine gara un confronto con i tifosi venuti qui all'Aquila? Sì sono anche io in conferenza a parlare perché il campo basso è mio ci metto la faccia sono insieme a mio fratello Marco e cacciiamo i soldi abbiamo salvato una squadra un titolo giustamente quando i tifosi attaccano la squadra come si attaccano me e sono a metterci la faccia scappare sarebbe facile purtroppo è andata così è stato andata così su quattro giornate che ci gira male se avessimo fatto qualche punticino in più saremmo dall'altra parte della passifica essendo molto corto. C'è stata una piccola contestazione a fine partita da parte del gruppetto giunto qui all'Aquila. Sì sì ma io sto solo da ringraziare ci seguono ovunque non sono mancato una trasferta sono sempre stati presenti in settimana io non c'ero stato in Bulgaria con mio fratello e loro hanno incitato la squadra negli spagnatori purtroppo non si è capito cosa stiamo passando. Altro recupero della giornata di ieri quello fra Fabriano Cerreto e Pineto vittoria degli abruzzesi per 3 a 1 in una vittoria che avvicina il Pineto alla zona playoff ora distante soltanto un punto andiamo ad ascoltare le impressioni a fine gara. Una partita importantissima dove entrambe le squadre volevano i tre punti perché il pareggio penso non serviva a nessuno noi l'abbiamo interpretata bene passando in vantaggio poi forse ci siamo passati un po' troppo abbiamo difeso un po' troppo dentro l'area di rigore è venuto il pareggio del Fabriano però la squadra voleva a tutti i costi la vittoria i cambi effettuati sono stati importanti sono entrati i giocatori con il Pio giusto e questo ci ha permesso di raggiungere la vittoria e che in questo momento del campionato la vittoria è fondamentale per aspirare a provare a cercare l'obiettivo dei playoff. L'episodio in cui oggi ci sono stati contrari però direi che nel primo tempo a parte come dicevo prima i primi dieci minuti dopo abbiamo iniziato a giocare dopo anche se siamo andati sotto la squadra ha reagito ha trovato il pareggio cioè ha cercato in tutti i modi di ribaltare questa situazione purtroppo dopo il secondo gol secondo me ci ha ammazzato perché era il momento migliore nostro e è lì che abbiamo fatto la frittata. E' tutto anche per questa edizione del TG6 io vi ringrazio per essere stati con noi vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili sul sito www.tv6.it e sul nostro canale youtube grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.